In collaborazione con Babylon Caffè, spiannata Castelletto, Genova Qualunque Mente Pizza, piazza Garassini, sette rosso, Genova Marassi Rosticeria Castelletto, spiannata Castelletto a Genova Marcelleria da Claudio, via Canevari, 215 rosso, Genova Ben ritrovati cari amici, sempre qua su Teleligure, canale 118 Vi ricordo che siamo anche su Entra la TV, canale 17 Entra la TV Sport, canale 271 e Telegenova, canale 111 Ovviamente Telegenova 2 Allora, adesso parliamo di Serie B Facciamo un punto con la nostra redazione Poi dopo ne parleremo anche con i nostri ospiti Guardate Confermato l'allenatore della promozione Prina Rinnovati i contratti di Cesar, Volpe e Staiti Il primo colpo per la Serie B dell'Entella È stato Paolo Valagussa Centrocampista classe 93 Che può contare quasi 100 presenze in Lega Pro Nonostante la giovane età Prelevato anche il centrocampista portoghese classe 91 Pedro Costa Ferreira Nell'ultima stagione il giocatore ha militato nel Messina Segnando ben 14 gol E segnalandosi come una delle migliori promesse del campionato di Lega Pro Altro rinforzo per l'Entella in vista della prossima stagione Gianluca Litteri Preveniente dalla Ternana a parametro zero In quanto in scadenza con il club Umbro Entella molto attivo sul mercato Si registrano anche gli interessi per Borghese, Pelizzoli e Sansovini Lo Spezza, interrotto il rapporto con Davis Mangia, ha affidato la propria panchina a Nenad Bielica Ex centrocampista, Bielica proviene dall'Austria-Vienna Risolte anche alcune comproprietà Trovato l'accordo con l'Ellas Verona per Ivano Baldazzedu e Francesco Migliore I due giocatori passano a titolo definitivo alla Società Bianca Rinnovato inoltre l'accordo di compartecipazione con la Juventus per Magnusson Previsto in questi giorni l'incontro tra direttore sportivo e allenatore Per pianificare le strategie di mercato future E adesso Ugo parliamo di un allenatore Nenad Bielica, dello Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia Come valutazione soltanto, mi diceva prima Paolo che era l'Austria-Vienna ad allenare Me lo ricordo vagamente come giocatore E' un po' una sorpresa Viene la Spezia, ecco, la cosa che so di certo Che viene una piazza difficilissima Una piazza mangia allenatori Perché basta guardare le statistiche I allenatori spezzini arrivano E se non fanno risultati con una certa continuità Anche abbastanza a breve scadenza Vengono messe subito in discussione Serena, Stroppa, Mangia Steso Che poi alla fine della storia E poi ci è arrivato Quindi non so, probabilmente è un canale Adesso che si voleva seguire Si parlava già di Tudor Sempre venendo da quelle zone Può darsi che sia sicuramente una Tanto era quasi scontato Che non raggiungendo l'obiettivo Che lo Spezia voleva raggiungere Cioè la Serie A Era quel scontato Che Mangia avrebbe lasciato Conoscendo anche un po' l'ambiente Il mondo spezzino Era già scontato Che dovessero cambiare E' una nuova scelta Ripeto E' una scelta Coraggiosa Ma al tempo stesso Più per lui Che per la società Perché l'ambiente spezzino E' così Esigentissimo Anche competente Ma molto molto critico Ti dà un poco tempo Per dimostrare il valore E come sai Un allenatore Deve avere Il tempo adeguato Per poter Perché non è facile Mettere insieme dei giocatori Fare una preparazione Dare un po' di rodaggio Ci vuole del rodaggio Invece purtroppo Secondo me Se mi posso permettere Un po' il difetto Che ha l'ambiente spezzino Gli spezzini presi così Uno per uno Riconoscono Questa loro Così in petto Magari nel volere Quello di pretendere Risultati A brevissima scadenza E dopo tre partite Quattro Avete già una discussione Non tecnica Il calcio mi ha insegnato Che bisogna lavorare In prospettiva Non si può pretendere Di fare risultati Alle domeniche E quindi spezzia Una bella impresa Per chi ci va Ecco Chi va a spezzia Sa che deve rimboccarsi Le maniche Sudare Forte La curva ferrovia La chi aspetta Qua ferrovia è tremenda Va bene Cari amici Invece adesso Parliamo Di nazionale italiana Facciamo un altro Bel punto Per chiarire un po' Tutto Guardate Quattro anni fa Fu la Slovacchia 50 anni fa La Corea del Nord Questa volta È toccata l'Uruguay La sostanza Non cambia La precoce eliminazione Dell'Italia Dei mondiali brasiliani Per mano della celeste Entra di dritto Tra le pagine più nere Della secolare storia Della nazionale azzurra Ci sono sconfitte Che bruciano Come la finale Perse rigori Contro il Brasile Nel 1994 L'eliminazione Sempre dal dischetto Con l'Argentina Nel 1990 E i penalti Ancora fatali Del 1998 In Francia Ma soprattutto Debacle Che non si cancellano Adesso Dopo Sudafrica 2010 Le pagine nere Si arricchiscono Di un nuovo capitolo Brasile 2014 Il mondiale di Prandelli Finisce qua 18 giorni Dopo lo sbarco in Brasile Con due sconfitte E una vittoria Nel girone Che premia Chi merita Come la Costa Rica E chi come l'Uruguay Aveva il carattere Per andare avanti A casa Come 4 anni fa In Sudafrica E eliminati Un'altra volta Due mondiali di fila Fuori Al primo giro Finisce in un pomeriggio Dove temevi Gli attaccanti avversari Cavani E Suarez E invece Segnacodin Che con una zuccata vincente Anche al Camp Nou Fece pareggiare L'Atletico Madrid Realizzando gol pesante Che valse lo scudetto Ai madrileni Ai danni proprio Del Barça In questa partita C'è stato Un gol Un'espulsione Un rigore negato Ai sudamericani E un morso Quello di Suarez Sulla spalla di Chiellini Che meritava l'espulsione Ma questo Non ha inciso Sul risultato finale Della partita Prandelli Non sta fermo Un istante Si siede per la prima volta In panchina dopo un'ora E si rialza Dopo un minuto Protesta a ogni intervento Mantiene la linea Tracciato al suo arrivo A Rio de Janeiro Il clima Ci ha penalizzato Dice Siamo l'unica squadra A giocare due volte Alle 13 Il progetto tecnico È fallito E Prandelli Alla fine della partita Rassegna le dimissioni E aggiunge Irrevocabili Terremoto Quindi Dopo Italia Uruguay Si dimette pure Giancarlo Abete Presidente federale Le sue sono Dimissioni Irrevocabili Erano già state decise Prima ancora Del mondiale Prandelli dunque Lascia Balotelli Negli spogliatoi Alla fine del primo tempo Perché è già monito Dentro L'ennesimo centrocampista Parolo E Dopo che Immobile Aveva i crampi Dentro anche Cassano Passando al 5-4-1 E sistemando Verratti Sulla tre quarti Dove non giocava Dai tempi di Pescara Cassano Fa quel che può Verratti Finisce a terra Con i crampi Sostituito Da Tiago Motta L'Italia però Non ha perso Il suo mondiale Contro l'Uruguay Ma bensì Contro il Costa Rica Lì Prandelli Ci ha messo del suo Cambiando tutto Rivoluzionando una squadra Che a sorpresa Aveva battuto L'Inghilterra Fuori Verratti Dentro Abate Darby ha spostato a sinistra Un esperimento Che ancora non si capisce Oltretutto in pieno mondiale Ma c'era tempo Per farli in altri momenti Questi esperimenti Prandelli In ogni caso Va perdonato Perché si dimette E merita rispetto Visto che si era fidato Di Balotelli Che due anni fa L'Europeo Aveva già fallito La partita più importante Contro la Spagna Balotelli Sostituito alla fine Del primo tempo A fine partita Sale da solo Sopra il Pullman E va a meditare Mentre tutto il resto Del gruppo Rimane chiuso Negli spogliatoi Infine si chiude il sipario Sul mondiale dell'Italia E l'immagine finale È Buffon Il migliore degli italiani Sdraiato sul prato Di uno stadio Che Dopo la partita Italia-Uruguay Chiuderà I battenti Allora Dopo aver visto Queste partite Come giudicate Le prestazioni Anche un po' Deludenti Delle nazionali europee A differenza Di quelle latinoamericane Volevo iniziare Però da Paolo Ma È vero che Il discorso del clima Sembra una banalità Però secondo me È importante Dice che influisce Sì sicuramente Il clima è diverso Fa molto caldo C'è molta abilità Sì che hanno avuto Tempo per prepararsi Per simulare Magari Però inevitabilmente Le scuole sudamericane O africane O abituate a giocare A quelle latitudini Sono Facilitate Ma è proprio Una questione Fisica Ce ne accorgiamo Anche noi Giocando nel nostro piccolo Che ora Fa più caldo Facciamo più fatica Quindi anche loro A livelli Naturalmente Molto più elevati Con delle prestazioni Richieste A livello mondiale Sicuramente Risentono Chiaro Non può essere Una giustificazione Perché quando tu vedi Un'Italia che perde Con il Costa Rica Non puoi dire Che è solo colpa Del caldo Ci sono Ci sono altre motivazioni Tecnico-tattiche Che non vanno sottovalutate Però Nello stesso tempo Io darei Un 50% Delle motivazioni Al clima L'altro 50% È da ricercare In colpe Tecnico-tattiche Credo Hanno anche un'altra cosa Che posso aggiungere Che sentono molto L'identità nazionale In quelle manifestazioni Sono nel loro continente Quindi Le motivazioni Sono ancora più grandi Perché sono molto attaccate Alla maglia Per esempio Della Celeste Per esempio Dell'Argentina Che sono molto Molto attaccate I brasiliani Stessi Poi giocano In casa Però Ragione Paolo Il clima Una per cento E poi Le motivazioni Internotate Ci sono tante Da fare Tantissime Si potrebbe Parlare All'infinito Si potrebbe Dire che dopo La prima fase Forse Io Non è che voglio Spingere Per la nazionale Ma Vista la prima fase Viste tutte Olanda E Italia Erano quelle Che forse Avevano fatto vedere L'Italia Per me Aveva fatto Un suo dovere Con l'Inghilterra Che non è una cosa Eccezionale Siamo d'accordo L'Olanda Aveva strapazzato La Spagna Però poi Altre Stentate Abbastanza Tutti Brasile In difficoltà Argentina In difficoltà Insomma Germania Vince Comoda Col Portogallo Ma poi Nella seconda fase Con la fatica L'Argentina Con l'Iran Fatica L'Olanda Stessa Nella seconda fase Con l'Australia Fatica Cioè quindi Ecco Non per giustificare Noi abbiamo perso E male Abbiamo perso Malissimo E abbiamo perso Anche diversamente Dall'Uruguay Perché Uruguay Costa Rica Vendo Con l'Uruguay E con l'Italia Ma sono due partite Che analizzandole Sono state interpretate Diversamente Noi proprio abbiamo perso Perché proprio Non abbiamo dovinato una Abbiamo giocato Un gioco Lento Con passato Proprio siamo stati Scarsi Avete pazienza Io uso questo termine Non mi vengono altri L'Uruguay Deve Meditare molto Se non riuscire Ad andare avanti Perché Con la Costa Rica Peccato Di presunzione assoluta È andata Un vantaggio Su rigore dopo poco Probabilmente ha pensato Che l'hanno passeggiata Una formalità E non si è mai data Così Non si è mai preoccupato Ha ragione o ha torto Probabilmente anche ha torto Perché sicuramente C'è stato un po' di Fin dall'inizio C'è stato un po' di scetticismo Verso questo portiere Va anche detto Che dal canto suo È un po' mancato Sul piano della motivazione Forse questo portiere A Genova Mentre in nazionale Ha sempre fatto Fatto comunque bene A parte Qualche piccolo episodio Comunque Da non dimenticare Nel Doria magari ha avuto Quella mancanza di motivazione Che magari Per l'attaccamento alla maglia O comunque per l'ambizione personale Con l'Argentina Ha sempre avuto Nel Doria Gli si è sempre un po' rimproverato Questo superficialismo Questo atteggiamento Un po' Un po' da fenomeno quasi Che poi magari sul campo Non corrispondeva Poi alla realtà Visto che Qua e là Ricordiamo tanti episodi In cui Non si è fatto trovare Proprio pronto Ecco Chissà che magari Con Un anno Di distanza da Genova Ritornare a Genova Magari Ritrovare un po' di Motivazione Anche magari Grazie al Mondiale Chissà che non potrebbe essere Proprio lui Il portiere Della prossima stagione Della Sampdoria Paolo Romero Cosa ne pensi? Non mi è mai piaciuto L'atteggiamento No? Si dovrebbe utilizzare Una parola Che in tv Non si può dire Però ho giocato sempre Con un po' di superficialità Indubbiamente A livello tecnico Il giocatore C'è tutto Se no non giocherebbe Mondiali Con la maglia Dell'Argentina Un giocatore Che se Miajlovic Lo prendesse da parte E gli facesse capire Cosa vuol dire Vestire la maglia Della Sampdoria A livello tecnico Me lo terrei Tutta la vita Comunque Romero è un portiere Di un nazionale Top A livello mondiale Quindi non avrei Alcun dubbio A tenermelo Bisogna vedere Poi tutto il contesto Anche Il suo passato I magli a Sampdoria Certe prestazioni Veramente fallimentari E un po' La piazza Che ormai Lo ha Lo ha etichettato Come Un elemento Negativo Forse non degno Di vestire questa maglia Però Con la testa giusta Non si può discutere Secondo te Allora Forse Non serve avere Grandi stelle Fra le proprie fila Beh insomma Fino a un certo punto Ecco Voglio dire Forse dipende Da chi ha la stella Sì beh Tanto Romero Come tu giustamente Paolo Un portiere Di altissimo livello Che se ne dica Che ne dicano I tifosi santoriani Che appunto So anch'io Come dice Paolo Che non lo gradivano Forse Mentre ragione Paolo Per l'atteggiamento Che forse lui aveva Di giocare con una certa Sufficienza Magari come se Giocano a Sandorio Forse una cosa Di secondo piano Cosa che è sbagliata Perché la maglia Sandorio è una maglia pesante Una maglia di spessore È una maglia importante Quindi se come dice Paolo Giustamente ha individuato Se un attore È tanto bravo E capace Di fargli capire Come del resto Mielovic Quando è arrivato Il primo Quello che ha detto Ha parlato Dell'importanza Della maglia Ha detto Io Ricordate Quando avevo parlato Tante volte Se ha fatto capire Questo Romero La partita con l'Iran Se vogliamo Per un esempio Ha fatto tre parate Decisive L'Argentina perde Quindi ha poi un portiere Che ha detto Bene Paolo Se gioca in Argentina Di Tolare Se lo richiamano Sicuramente Poi si vede Io punterei Fortemente Certo La prima scelta Io ho sempre detto Da questa Emittente Che punterei Su Fiorillo Perché mi rifaccio Un po' il discorso Per Indi Con ragazzi giovani Poi Fiorillo Un po' più vecchio Quindi magari Sarebbe l'ora Che Però ecco Se Romero Viene Romero Che è Romero tutta la vita E Fiorillo Magari fare Da seconda Certo Va bene Tra pochissimo Conosceremo meglio I nostri ospiti Voi rimanete sempre lì L'Iguore Sportiva continua Tra poco In collaborazione con Babylon Cafè Spiannata Castelletto Genova Qualunque Mente Pizza Piazza Garassini Sette Rosso Genova Marassi Rosticeria Castelletto Spiannata Castelletto A Genova Marcelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Marcelleria da Claudio Parola d'ordine Qualità Carne selezionate piemontesi Pollami allevato a terra Conigli, agnelli e suini di prima scelta Prova anche le nostre specialità gastronomiche Cima la Genovese Ravioli fatti a mano di nostra produzione Trippa in umido E tanto altro Marcelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Si accettano le ordinazioni E consegniamo a domicilio Marcelleria da Claudio Scegli la qualità Niente È come un buon bagno caldo e rilassante Ma non se trovi difficile o impossibile entrare o uscire dalla vasca Allora, grazie a bagno reale, ti sarà semplicissimo Verrai abbassato dolcemente e in sicurezza fino in fondo alla vasca premendo un pulsante E poi risollevato lentamente per uscire Cambia la tua vita, non il tuo bagno Vi piacerebbe ritornare a fare delle belle passeggiate al parco Andare a salutare i vostri amici al bar Andare a fare la spesa da soli Senza dovervi fare accompagnare da qualcuno Adesso lo potete fare Con gli scooter elettrici a tre o a quattro ruote della Sovrana Una vasta gamma di modelli Per soddisfare tutte le esigenze Ripartite all'avventura senza l'aiuto di nessuno Non esitate Scooter elettrici Sovrana La libertà ritrovata Collaborazione con Babylon Caffè Spiannata Castelletto, Genova Qualunque Mente Pizza Piazza Garassini, Sette Rosso, Genova Marassi Rosticeria Castelletto Spiannata Castelletto a Genova Marcelleria da Claudio Via Canevari, 215 Rosso, Genova Ben ritrovati cari amici Iniziamo da ugo perché so che ci sono delle novità sui corsi È vero? Sì, velocissimo Certo, aggiornamento dei corsi allenatori Sì, velocissimo Guarda, telegrafico Allora, ho chiesto di fare un corso UEFA B a Genova Nel primo semestre 2015 Appena una richiesta che ha partito qualche giorno fa a Olivieri Spero sinceramente di essere accontentato Per quanto riguarda altri corsi Nel prossimo semestre la federazione Cioè la Lega Nazionale dei Direttanti Per la precisione Farà un corso a Chiavari Zona Chiavari Insomma Levante Su un primo, secondo, terzo Categoria di Unione Quei corsi che sono richiesti ora in zona Per personare certe situazioni Per mettere in regime certi campionati E una cosa che volevo sottolineare E finisco È che finalmente il calcio femminile Entra nelle lezioni In corsi UEFA B Da questo momento Ci saranno sei ore di calcio femminile E verrà come docente Una mia carissima amica Che è nello Stato Nazionale Che è Marita Guarino A quale ho chiesto i complimenti Quindi finalmente il calcio femminile Sarà materia di insegnamento Sempre meglio Sempre meglio Ogni puntata Sempre meglio Bisogna puntare sul femminile Fa piacere Allora invece passando a Paolo Parliamo finalmente di questo almanaco Perché ogni anno So che c'è l'almanaco del calcio Ma da quest'anno Ci sono due grandi novità Che è l'almanaco dello Sport Ligure E l'almanaco del calcio giovanile genovese È l'anno del triplete Come va di modo da dire Adesso Abbiamo fatto tre almanacchi Di cui uno è quello storico E quello che abbiamo presentato oggi L'almanaco del calcio Ligure 2013-2014 Però quest'anno Ci sono altre due grandi iniziative Una che è quella che stai facendo vedere adesso È l'almanaco del calcio giovanile genovese Che è edito dal secolo Ma viene impaginato da Edizioni Sport Media Quindi lo sentiamo anche nostro Perché le fotografie sono nostre L'impaginazione è nostra L'altra grossa novità è l'almanaco dello Sport Ligure Curato come vedete dal mio socio Luca Ghiglione Che ha seguito pallavolo, pallanuoto, pallacanestro e rugby Sono tutti gli sport di squadra della nostra regione Che seguiamo sempre per l'inserto dei giovani sportivi del secolo del lunedì Che abbiamo riportato su questo almanaco con tutte le figurine dei giocatori di questi quattro sport Come potete vedere sono tutti raffigurati a mezzo busto Divise anche per colore Sì 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 A seconda della categoria ripeto Pallavolo, pallanuoto, pallacanestro e rugby Quello a cui tengo particolarmente Che è quello che un po' ho seguito E che seguo da tanti anni È l'almanaco del calcio ligure Che abbiamo presentato oggi in regione E di cui vi ho fatto vedere la copertina È da 16 anni Questa è la sedicesima edizione Ed è un lavoro lunghissimo Che Sport Media fa appunto da 16 stagioni Si parte da agosto Cominciando a fare tutte le foto ai giocatori E si finisce con l'impaginazione a giugno Alla fine dei campionati Questa è molto importante quest'anno La parte statistica Perché abbiamo fatto praticamente le presenze e i gol Di tutti i giocatori Dalla serie A fino alla prima categoria Passando per Lega Pro, serie D La stessa serie B con lo Spezia L'eccellenza, la promozione e la prima categoria Ci sono però tutte le foto dei giocatori E le foto di squadra Delle società che militano nei campionati della Liguria Dalla serie A fino alla terza categoria C'è anche uno spazio importante per il campionato lavoratore Wisp Insomma chiunque gioca a calcio in Liguria È qui sopra È da 16 anni che è nell'edicole Ora come al solito dico Dopo tutto il nostro sforzo La palla passa ai lettori Alle appassionati Sperando che vadano in edicola Ad acquistarlo Vorrei far parlare poi anche Luca Che è uno degli artefici di questa pubblicazione Assolutamente Sicuramente è un lavoro molto lungo Come diceva Paolo Un lavoro che dura praticamente tutta la stagione Però è sempre una bella soddisfazione Poi quando vedi il lavoro pubblicato Che tra l'altro anche graficamente È sicuramente molto bello Molto accattivante Degno quasi di un album figurine panini Con tutte le fotografie Tutti i dati Foto di squadra E quest'anno appunto Come diceva Paolo Anche la parte statistica Che veramente impreziosisce ancora Questa bella pubblicazione Che poi è un bellissimo ricordo Per tutti quelli che fanno sport Nella nostra regione È un ricordo dell'annata Da conservare poi nel corso degli anni Vorrei ricordare anche gli altri collaboratori Perché appunto oltre ai miei soci Luca Ghiglione e Francesco Casuscelli Abbiamo Luca Pastorino Matteo Cileone Marco Innocenti Emanuele Croce Andrea Piras E Alessandro Soresini Luca Correggimi se sbaglio Sono tutti quelli che hanno collaborato Lungo questa lunghissima annata A pubblicare i nostri inserti I nostri almanacchi Il mensile Sport Media E tutti i lavori che facciamo Con il secolo XIX Ecco volevo allora Se posso inserirvi Perché ritengo doveroso Ma anche il mio piacere È tantissimo Sfrutto questa bellissima opportunità Per ringraziare Paolo Luca Tutta la redazione Sport Media Perché io come uomo Come allenatore Come presidente di associazione Per la mia associazione Devo dire a Paolo Con un debito di riconoscenza Eterno Perché mi ha dato modo Quando la mia associazione Si stava rampicando E faticava A farsi conoscere Nel mondo Ligure Perché purtroppo Così era la situazione Quando ero editato Senza come dico Togliare niente Che mi ha preceduto I miei maestri Però ecco di fatto Era il momento Che ci si doveva porre E farsi conoscere Sul territorio nazionale In maniera Ecco Paolo In questo senso Te lo ricordi Sei stato il primo Che mi hai dato Questa grande opportunità La sua redazione Sono ragazzi fantastici E queste pubblicazioni Sono essenziali Per uno che vuol fare sport Sono molto curate Anche nella stesura E nella qualità Anche della casa Se vogliamo anche andare a vedere Un bellissimo Che io consiglierei A tutti gli allenatori È un'enciclopedia È un'enciclopedia Ecco E poi colgo anche l'occasione Di fare un complimento A tutta la redazione Che era media Non mi ricordo più Ma a Luca Pattorino Perché è un grande Secondo me giornalista Con le potenzialità Che ha una grandissima capacità Di sintesi E questo lo potete sperimentare Ogni volta che faccio Un'intervista Quindi Spormedia Mi ha dato molto La ringrazio Ripeto Sono contento Di questa opportunità Perché da già un po' Ralu Paolo lo sa Che io Gli sono riconoscente Però Devo dire Che anche loro Mi hanno dato tantissimo spazio Finalmente l'Ajac Si sa chi è Ma anche noi Dobbiamo ringraziare L'associazione allenatori Perché è una delle associazioni Che più ci sostengono E hanno creduto in noi Perché tutti abbiamo bisogno Di farci conoscere E come noi abbiamo aiutato l'Ajac Anche l'Ajac Certo A mio intendimento Te lo sai Ho sempre detto Che sono io presidente Perché veramente In questi anni Ho constatato Questa politica Dobbiamo dire Che sull'Amanaco del Calcio Ligure C'è anche uno spazio speciale Dedicato alla associazione allenatoria Perché è giusto Dare visibilità Anche allenatori E anche loro Hanno tutte le loro figurine A partire dal presidente Ugo Maggi Tutti gli allenatori Della Liguria Hanno la loro figurina Perché insomma È giusto dare un po' Di spazio A tutti quanti Complimenti a tutte le relazioni A te Paolo E a tutti i tuoi collaboratori E ovviamente Anche se sono in trasmissione Questo è lo stesso discorso Va rivolto A questa emittente Che mi dà Anche la possibilità Di potermi esprimere Perché ripeto Il grande problema Alla associazione allenatoria Lo dirò Alla nausea Era quello di essere conosciuti Al di fuori Di quella piccola cerchia Che era In cui eravamo In quella nicchia Che ci conoscevano Non ci conoscevano Noi abbiamo avuto questo spazio E me ne rendo conto Anche tangibilmente E ora quando vado Per strada Mi sento dire Sento che Sanno cos'è l'AIA Che questo è importante Quindi questo è un bel messaggio Un ultimo messaggio Che volevo dare Che è la cosa più importante Poi che il nostro almanacco Sia l'almanacco dello sport Che l'almanacco del calcio liquore Si può trovare In tutte le edicole Di Genova E provincia Ma può essere anche Ordinato Fuori dalla provincia Anche dalla Spezia Savona E Imperia E ci sono alcune edicole Specifiche Di queste province Dove si può trovare Tutto comunque Segnalato sul nostro sito Edizionisportmedia.com O mettendosi in contatto Con la nostra redazione Edizionisportmedia.com Insomma Poi con Facebook Con internet Ormai adesso basta digitare Anche almanacco del calcio Ligure E si riesce a raggiungere L'obiettivo Fatto tutto a te Che mi hai tolto Le ultime due domande Però volevo Aggiungermi Ringraziamenti Ringraziare Perché comunque Ugo lo sa Che noi Ligure sportiva Spesso pubblicizziamo Molto anche lo sport Ligure Non solo quello che è Genova Sampdoria Ma allarghiamo Proprio a 360 gradi Le prospettive Quindi è sempre bello Avere qualcuno come voi Che lavora E fa queste cose Ci sono tanti movimenti Che hanno bisogno Di pubblicità E noi nel nostro piccolo Cerchiamo di farlo Da sempre sul calcio Dell'etantistico Ligure Ma anche da quest'anno Su pallavolo Pallacanestro Rugby Pallanuoto E tanti altri sport Che hanno bisogno Di avere la giusta visibilità Veramente Grazie al direttore Volo delle Piano Luca Pastorino Grazie a voi Ringrazio anche voi Mi raccomando Andate nelle edicole Al Manaco del Calcio Al Manaco dello Sport Ligure E al Manaco del Calcio Giovanile Mi raccomando State sempre su Tele Liguria Ci vediamo giovedì prossimo Alle 21 Replica il sabato E poi dopo lo sapete Tra poco ci sarà anche Liguria Live Grazie per averci seguito Alla prossima Ciao In collaborazione con Babylon Cafè Spiannata Castelletto Genova Qualunque Mente Pizza Piazza Garassini Sette Rosso Genova Marassi Rosticeria Castelletto Spiannata Castelletto A Genova Marcelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Spiannata Castelletto